Musica Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione che racconta i lavori del Consiglio regionale toscano, lavori che vanno avanti anche nel corso di questa estate, ma che guardano anche a quello che accadrà a settembre sul fronte scuola, con il ritorno alle lezioni. A caratterizzare il prossimo anno scolastico saranno anche dei progetti didattici, nati o sostenuti da un accordo, una collaborazione stretta tra il Consiglio regionale e l'ufficio scolastico. Vediamo di cosa si tratta. Un percorso di collaborazione tra l'ufficio scolastico regionale della Toscana e il Consiglio regionale per dare vita a partire dal prossimo settembre a iniziative didattiche e formative di partecipazione studentesca, cittadinanza attiva e percorsi per lo sviluppo di competenze trasversali e orientamento, un ITER che ha preso avvio all'inizio dell'anno col protocollo d'intesa firmato dal Presidente del Consiglio regionale e dal Direttore dell'ufficio scolastico e che lo stesso Consiglio ha sostenuto, stanziando 100.000 euro per finanziare iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte a nuove generazioni. Si parla di giovani soprattutto, è stata una scelta che ha segnato questa legislatura, quella di dare il sostegno ad iniziative che riguardano le nuove generazioni. In questo caso presentiamo un progetto bello, importante, innovativo, costruito insieme all'ufficio scolastico regionale. Ringrazio il Dottor Pellecchia e il Dottor Curtolo per un lavoro importante che è stato messo in atto, sei progetti che pongono i giovani al centro. Ho voluto con forza riaprire le porte del Consiglio regionale, le ragazze e i ragazzi più giovani delle nostre scuole per cercare di raccontare come si predispone una legge, quali sono gli atti normativi su cui lavoriamo, il valore e il simbolo del Pegaso, portare le Costituzioni nelle scuole, lavorare sulla costruzione di un nuovo paradigma con cui i ragazzi possano affrontare l'ingresso nella società civile e a ognuno di loro dare gli strumenti da portare nella cassetta degli attrezzi. Questa è una sfida bella, abbiamo bisogno dell'ufficio scolastico regionale perché solo insieme a loro possiamo raggiungere tante ragazze e tanti ragazzi più giovani e permettergli di diventare cittadini attivi. Se solo riuscissimo a coinvolgere dieci ragazzi in più e far diventare dieci cittadini attivi in più avremmo svolto un lavoro importante che dà il segno di quella che è la nostra idea di Toscana. Sei i progetti presentati che riguardano tutti gli ambiti della formazione. Oggi presentiamo una serie di progetti che sono estremamente interessanti per i nostri giovani, per i nostri ragazzi, perché riguardano tutti gli ambiti della formazione perché passiamo, collegandoci anche a quello che poi è il PNRR, perché passiamo dal digitale alle competenze di cittadinanza. Quindi ci muoviamo attraverso una serie di progetti che riusciamo a realizzare grazie all'attenzione e al contributo intelligente del Consiglio regionale per la Toscana che ha colto questa necessità e l'ha messa a disposizione della scuola. Quindi noi ci troviamo veramente a presentare dei progetti sulla didattica digitale, a presentare dei progetti sulla partecipazione attiva alle istituzioni da parte dei nostri giovani, alla consapevolezza dei giovani per le attività di partecipazione in proiezione alla vita della scuola, in proiezione della vita poi sociale che dovranno sviluppare e che sviluppano parallelamente. L'altra cosa estremamente importante è che ciascuna iniziativa è fatta insieme a partner altamente qualificati. Quindi andiamo ovviamente dal Consiglio regionale, ma poi passiamo attraverso, tagliando con l'ordine dei giornalisti, con l'Università di Firenze, con Icon, con Google for Innovation. Ci muoviamo su un partenariato che dà non solo una visibilità alle attività dei nostri ragazzi, ma gli dà anche qualità e forza nella proposta innovativa. 70 anni fa a Firenze nascevano le sfilate di moda. Oggi divenute un abitué di tanti appuntamenti in giro per il mondo, ma fino al 1952 qualcosa che non si conosceva e che venne concepita dalla mente di un imprenditore toscano. Questo anniversario ai 70 anni, la prima sfilata nella Sala Bianca di Palazzo Pitti e un altro anniversario, la scomparsa 50 anni fa dell'uomo che ebbe quell'idea, sono celebrati attraverso una mostra, una mostra in due tappe, presentata in Consiglio regionale. Moda artigianato e made in Italy. Boom! La moda italiana. È la mostra organizzata a 70 anni dalla prima sfilata nella Sala Bianca di Palazzo Pitti a Firenze, che ha preso il via sabato 6 agosto scorso a Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Il progetto è nato per celebrare due ricorrenze, il settantesimo anniversario della prima sfilata voluta da Giovanni Battista Giorgini e il cinquantesimo dalla scomparsa dell'imprenditore Forte Marmino. Un'esposizione in due tappe, entrambe a ingresso libero, a Forte dei Marmi fino a domenica 28 agosto e successivamente al Palazzo delle Esposizioni di Lucca fino a domenica 16 ottobre. Siamo particolarmente contenti di essere qui a presentare questa mostra che si svolgerà presso Villa Bertelli dal 6 di agosto fino al 28. Questa iniziativa di presentazione della mostra è stata voluta dalla collega Valentina Mercanti e siamo qui per dire che dobbiamo essere tutti per sostenere la moda italiana e toscana e questa è un'iniziativa importante a 50 anni dalla scomparsa di Giorgini, una delle figure storiche che ha lanciato la moda, ecco ci ricordiamo 70 anni fa la prima sfilata, è la storia della Toscana che non è soltanto cultura ma è anche moda, ma è anche manifatturiero. Sappiamo quanto è importante ancora oggi la moda per l'indotto, per chi ci lavora e siamo qui per dire che il Palazzo del Consiglio regionale si apre ancora una volta all'esterno e insieme con altre realtà fa qualcosa di bello. Il mio applauso anche a CNA e al comune di Forte di Marmi. La mostra espone una vasta raccolta di abiti e accessori d'epoca, pezzi originali provenienti dal patrimonio di alcuni archivi prestigiosi della moda italiana, atelie e botteghe storiche fiorentine. Oltre ai manufatti sono presenti anche documenti cartacei e fotografici, nonché filmati d'epoca. Siamo molto orgogliosi, un percorso che è partito diversi mesi fa e apriremo gli archivi delle case storiche di moda, sia fiorentine e non solo, ma anche gli archivi privati con veramente delle cose interessanti e dei tesori, sia dal punto di vista della realizzazione di accessori e abiti, ma anche fotografici. Ci sono degli inediti molto interessanti. La mostra si svolge prima a Villa Bertelli, a Forte di Marmi, dal 6 agosto al 28 agosto e poi dopo a Lucca dal 10 settembre al 16 ottobre al Palazzo delle Spondizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Le mostre, gli eventi culturali che si inseriscono nel ricchissimo patrimonio artistico e culturale della Toscana sono come sempre un forte richiamo per i turisti da tutto il mondo, anche i numeri delle presenze di quest'estate ne sono state la conferma. Ma ci sono anche luoghi della Toscana meno conosciuti, meno promossi, ma che meritano senza dubbio di essere scoperti, di essere ammirati. Ad esempio il sito fortificato del Poggio delle Fate una scoperta particolare nata dall'amore per il territorio e dalla curiosità di scoprirne tratti, tradizioni e identità. La storia del sito fortificato di Poggio alle Fate, una cinta muraria di epoca protostorica, è stata svelata in Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana, grazie al libro curato dal gruppo archeologico paleontologico di Livorno. Il volume racconta il lavoro di squadra portato avanti dal gruppo con la soprintendenza archeologica di Pisa e Livorno e conferma l'enorme patrimonio di bellezza della Toscana. Valorizzare il sito di Poggio alle Fate e con lui altri pezzi di Toscana deve essere un obiettivo delle istituzioni chiamate anche a far crescere quelle identità non del tutto conosciute che accrescono la bellezza e il valore della Toscana anche nel mercato turistico e ricettivo. Valorizzare un territorio significa anche far conoscere le sue bellezze, anche le sue particolarità, anche quelle poco conosciute. Io devo ringraziare il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzè, dell'Ufficio di Presidenza perché hanno accettato la richiesta di pubblicare questo lavoro che a mio modesto parere sarà molto interessante anche nella discussione e soprattutto nell'approfondimento non soltanto dei cosiddetti addetti ai lavori ma permetterà a un'intera popolazione di scoprire che ha radici ancora più antiche e soprattutto ancora più importanti di quelle che si riteneva. Dunque è un tassello prezioso e importante, questa pubblicazione servirà ovviamente a evidenziare anche il lavoro del gruppo archeologico paleontologico livornese che ringrazio così come la soprintendenza, un gioco di squadra che noi vogliamo porre all'attenzione non soltanto delle comunità dei nostri territori ma anche a livello regionale e dunque questa occasione così bella e così preziosa ha anche questa finalità. E chiudiamo parlando di un toscano doc benché si tratti di un personaggio di fantasia, Pinocchio perché a Collodi torna il festival che raccoglie in quest'estate decine e decine di iniziative. Presentata in Palazzo del Pegaso la settima edizione di Senza Fili Pinocchio Street Festival rassegna di teatro, musica e circo che si svolgerà dal 26 al 28 agosto prossimi nell'antico borgo di Collodi. Questa edizione 2022 segna anche una ripartenza dopo un lungo periodo di emergenza pandemica. A detta del direttore artistico Alessio Michelotti questa settima edizione conta oltre 100 spettacoli, repliche comprese a dimostrazione di quanto il progetto sia ormai strutturato e si sia imposto tra i più innovativi e interessanti della Toscana per il presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi Pierfrancesco Bernacchi. Il festival si rivolge naturalmente a più giovani ma ha il suo pregio di riuscire a coinvolgere varie fasce di età. Il Pinocchio Street Festival ha avuto il merito di essere entrato nel cuore di tante persone. È una formula immersiva, spettacoli e momenti di alta qualità dal punto di vista culturale all'interno di scenari bellissimi. Il paese di Collodi Castello che ovviamente ha un fascino tutto particolare la Villa Garzoni, il Parco di Pinocchio col passare degli anni ha avuto sempre una maggiore rilevanza non solo sul nostro territorio ma anche molto oltre sia appunto per gli artisti che vengono a esibirsi ma anche per l'esperienza che viene offerta. È un modo per vivere un territorio e i borghi e soprattutto per conoscere anche zone che forse a tanti sono sconosciute ma che come ad esempio tanti angoli di Collodi Castello hanno una bellezza veramente straordinaria. Quindi l'invito è in quei tre giorni a regalarvi delle ore in mezzo alla bellezza, all'arte e alla cultura. Ed è tutto anche per questo appuntamento con la voce del Consiglio. Io vi ricordo che potete restare informati sui lavori del Consiglio regionale toscano visitando il sito www.consiglio.regione.toscana.it La nostra trasmissione invece torna come sempre la prossima settimana. Arrivederci. Grazie! 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 Grazie a tutti.